Per tutta la vita ho vissuto in una noce di cocco. Non è un posto meraviglioso per viverci. Voi credete in Dio? Io no. Oh! Le persone che vivono in una noce di cocco dice che sarà una su un milione. Adelli, non lo fare! Io sono morto in una noce di cocco. Io sono morto in una noce.